Proseguiamo con l'approfondire alcuni concetti che caratterizzano il rapporto fra il professionista e il paziente. Abbiamo parlato nei video precedenti di empatia, alleanza terapeutica, esperienza emotiva correttiva e ancora prima abbiamo parlato di transfer e contro transfer. Altro tema nodale in ambito terapeutico è la neutralità e l'apertura del terapeuta. Agli esordi e per parecchi anni l'atteggiamento che si consigliava a essere terapeuta con il paziente era di neutralità, cioè un ascolto non direttivo e non coinvolto con le vicissitudini del paziente, imitando quindi il contro transfer del quale avevamo parlato. Con questo non si intendeva un atteggiamento freddamente distaccato ma in qualche modo equidistante dai bisogni dell'io, dell'essere del superio del paziente, quindi una certa refrattarietà. Ora con il tempo ci si è resi conto che lo psicoterapeuta è in primis e ovviamente un essere umano e come ha affermato Gill nel 94 la vera neutralità analitica corrisponde alla consapevolezza di non poter essere mai neutrale perché le parole, i modi, i valori che orientano la crescita e il cambiamento sono sempre attivi nel terapeuta anche se non consapevolmente. In quest'ottica abbiamo strumenti di apertura verso il paziente che permettono al terapeuta di non essere freddo e neutrale, cose che ormai quindi abbiamo capito che sono ritenute poco responsive verso il paziente, ma anche strumenti che permettono di essere aperti in una maniera non disordinata o troppo amicale. Ad esempio la self-disclosure che tramite rivelazione di sé, della propria vita, aumenta la soggettività del terapeuta agli occhi del paziente, il che permette quel legame umano bonificato che innucia il fattore terapeutico del lavoro psicologico. Cioè il terapeuta si apre, si occasionalmente racconta al paziente. Ora qui si apre un capitolo molto sensibile, cioè la soggettività del terapeuta e come esprimerla. In primo luogo, come detto, negarla, nasconderla dietro cortine fumogene, ad esempio dando idee di formalità o informalità che non corrispondono alla propria genuina impostazione, non ha molto senso. Il terapeuta deve anche essere pronto ad accettare il fatto di non essere un soggetto sempre comunque apprezzabile, perché ricordiamoci che il terapeuta può essere giudicato bene o male, ma anche da fattori passivi o superficiali, per esempio l'abbigliamento, l'arredamento del luogo in cui lavora, soprattutto se magari lavora a domicilio, oggi, nel senso per cui il paziente entra in casa e osserva la casa. Inoltre, un atteggiamento informale, ad esempio dare del tu al paziente, va valutato, perché ci sono certi pazienti, per esempio è il caso dei pazienti narcisistici, con i quali è bene mantenere un rapporto asimmetrico. Ricordiamo che un narcisista intimamente ha un vero sedevole e quindi porsi intimamente sul suo piano con un tu, in questa dimensione amicale, implica essere poste su un basso livello, ma anche in questo caso va valutato con attenzione. D'altra parte, un atteggiamento troppo formale raramente si rivela molto efficace in terapia. La self-disclosure, d'altra parte, permette al terapeuta non solo di presentarsi nella propria fallibilità, limitando una dimensione asimmetrica e narcisistica circa la propria stessa figura, ma anche di ammettere i propri vissuti negativi circa la terapia stessa. Si tratta in fondo della, quello che fu definita genuines, una genuinità di cui parlava Rogers, o anche di quella capacità di trasformare i propri difetti, la propria patologia in qualcosa di creativo. La prova è che la ricerca scientifica in psicoterapia dimostra che i pazienti, alla fine della terapia, tendono a ricordare, oltre che le interpretazioni, i momenti di genuino incontro umano col terapeuta, di un incontro autentico. Perciò, mentre la neutralità alla fine si rivela un'illusione difensiva del terapeuta, un certo grado di apertura incentiva il paziente a fare altrettanto una sorta di don des relazionale e verbale. E va anche bene quando si tratta di self-revelation, che è una rivelazione di sé involontaria tramite inciampi, lapsus, con l'abbigliamento, come avevamo detto, con l'arredamento, la mimica. La potenzialità del fattore terapeutico della self-revelation è che esprime la vitalità del terapeuta, il fatto che sia un essere umano vitale e quindi fallibile, la sua umanità, la sua imprecisione. Questo può essere molto terapeutico, soprattutto con pazienti gravi. Ci fermiamo qui, nel prossimo video parleremo di un tema rarissimamente trattato, soprattutto in pubblico, ovvero i disturbi iatrogeni, ovvero i problemi psicologici causati dal terapeuta. Grazie.